Buongiorno a tutti, sono Nicoletta Cazzani e lavoro all'Ufficio Relazioni Internazionali della LUC Università Cattaneo. Mi occupo degli studenti italiani che decidono di trascorrere un periodo di studi all'estero attraverso uno dei nostri programmi di mobilità internazionale. Il programma Exchange offre l'opportunità di trascorrere un semestre, un intero anno accademico, presso una nostra università partner fuori Europa. Il programma prevede il pieno riconoscimento accademico degli esami svolti all'estero. Per conoscere le opportunità, le università e i paesi offerti e le modalità di candidatura vi invito a consultare le pagine internet del nostro sito oppure di venire a trovarci all'Ufficio Relazioni Internazionali e non perdete questa opportunità, vi aspettiamo.